Al via le vaccinazioni ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni. L'Asla di Teramo ha raggiunto l'accordo con i pediatri di libera scelta per l'esecuzione dei vaccini sui pazienti più giovani. Le vaccinazioni saranno eseguite dai pediatri nei propri studi professionali o negli hub vaccinali aziendali. Le famiglie dei ragazzi che vogliono aderire alla campagna devono prendere contatto direttamente con il proprio pediatra di fiducia. Un'accelerazione dovuta al fatto che nell'ultimo mese la maggior parte dei soggetti sottoposti a sorveglianza epidemiologica, poiché entrati in contatto con coetanei positivi, appartiene alle fasce più giovani e in particolar modo a quella adolescenziale. La vaccinazione degli adolescenti rappresenta uno dei più importanti presidi preventivi in vista della riapertura delle scuole a settembre. Intanto sono riprese le visite ai pazienti ricoverati nei quattro ospedali teramani in applicazione dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale Marsilio del 9 giugno. Gli accessi dei familiari, secondo quanto predispone l'ordinanza, saranno programmati nell'arco della giornata in modo da evitare assembramenti. L'ordinanza prevede la nomina di un responsabile Covid per ogni reparto, a cui i familiari devono presentare richiesta entro le 48 ore precedenti dalla data della visita. L'ingresso di norma è previsto per non più di un visitatore adeggente. In caso di paziente Covid positivo, l'accesso dei visitatori nella stanza in isolamento è previsto solo in caso in cui il malato sia minorenne o in forte pericolo di vita. Ovviamente l'accesso negli ospedali è sottoposto ad una serie di misure di sicurezza per garantire la salute di tutti, tenendo presente che l'emergenza Covid non è finita.